ma penalizzato dal numero 7 che lo costringerà ai lavori forzati in avvio per non restare allo scoperto. E poi ancora Sunshine Bar che nell'ultimo periodo ha marcato qualche passo falso ma che resta ugualmente uno dei soggetti più attesi di questa gara. Quindi c'è tanta carne sul fuoco considerando che poi Ritz B, Tiago di Ruggi, Taibbi e primi tre numeri sono delle ottime sorprese ma prestiamoci a vivere questo trofeo San Silvestro di fine anno. Trofeo di San Silvestro, classico invito di chiusura come sesta corsa di questo bel convegno di corsa all'Ippodone della Favorita. In prima fila Ritz B, Tiago di Ruggi, Taibbi, Regale, Traigen, Simiedo e Tacos Font. In seconda fila Sunshine Bar e Patrick S. In chiusura di gioco 2.40 alla scuderia Simiedo e Patrick S. I cavalli vengono lanciati da mezzo meccanico con Regale la più veloce. Dall'esterno della prima fila partono bene sia Simiedo che Tacos Font per via interna e Ritz B. Regale si sta all'accomando con una frazione in 13.3. Simiedo prende in mano Davide Di Stefano, resta in seconda posizione e Ritz B. Chiusa la corda Taibbi con i fianchi a proprio Simiedo al quale si accoda Tacos Font. Prova in terza ruota invece Patrick S. 29.400 metri. Giuseppe Zanca ha già rallentato la figlia di Ganymed. I primi 600 metri vengono percorsi da Regale in 43.3. Allunga ancora vistoso visto che Patrick S. si fa sotto minacciosamente trascinandosi il compagno di colori Simiedo. Alla corda sempre il numero 1 di Ritz B e il numero 3 di Taibbi. Quindi via via tutti gli altri. 58 a metà gara. Regale sempre in testa. Ritz B e Patrick S. Conducono in paria il resto del gruppo con Simiedo all'esterno di Taibbi. Si arriva al chilometro in 1.13.1. Si va via di Lena con Regale in testa sotto la minaccia di Patrick S. Quindi Simiedo nella sua scia. scatta in terza ruota. Il numero 8 di Sanchai Bar. Molto con progressione. Molto violenta. Scavalca tutti e si porta ai fianchi di Regale. Regale e Sanchai Bar. Adesso alle prese. A metà dell'ultima curva Sanchai Bar è decisa all'attacco di Regale. Cala leggermente Patrick S. e scompare Simiedo. Per Varchi interni sempre Ritz B. Sanchai Bar attacca con decisione Regale. Passa ai 100 finali e prende una lunghezza di vantaggio. Giuseppe Porzio Jr. si invola verso il traguardo. Sanchai Bar. 1.56.5. Sanchai Bar. La figlia di Luke Destard. I colori della Jimmy. Il training di Tony Porzio. La guida perfetta di Giuseppe Porzio Jr. Sanchai Bar assegna in questo trofeo San Silvestro. Un finale veramente con i botti. 1.56.5. Si è andato veramente forte. In questa prova clou di fine anno. Una media intorno all'1.13. Un Sanchai Bar che prende la meglio nettamente sul Regale. Che aveva condotto con fiducia fin dalla partenza. A buona media. Ha cercato di mettere in difficoltà gli avversari. È riuscita a mettere in difficoltà tutti tranne che una. Sanchai Bar. Sanchai Bar assegnano a San Silvestro. Regale conclude al secondo posto. La trio è completata. Probabilmente dopo foto tra il numero 3 di Tai B e il numero 1 Riz B all'interno che arrivano indecifrabilmente apparegliati e quindi sarà il giudice di arrivo a confermare quest'ordine d'arrivo. È tutto per la sesta corsa di Palermo.